Ok Luca, come accedere al tuo sito? Vai sul pensione correo qui sotto troverai usare e contro segna qua basta mettere Luca, che è il tuo nome Tarifa, che è dove abiti metti anche che corda a me, così non hai problemi e schiacci e entra a questo punto vedrai che cambia leggermente la tua pagina nel senso che ci sono questi concini qua con la matitina e la penna vai sulla pagina, sulla lingua, metti che vuoi andare sull'italiano quindi vai sulla pagina in italiano vai sui prezzi, per esempio se vuoi cambiare questa pagina e vedrai che c'è la pagina dei prezzi con la matitina schiacci sulla matitina e a questo punto ti riuscirà una pagina dove riesci a cambiare la pagina